Ha preso il via oggi a Ponte Cagnano-Faiano il percorso di Street Urban Art, l'iniziativa che porta i cittadini a passeggio nella città alla scoperta dei murales realizzati all'interno del territorio dei Comuni dei Picentini. Si tratta di uno degli eventi all'interno del ricco calendario programmato in occasione delle festività natalizie, un insieme di eventi che ha come fiori all'occhiello tre importanti concerti, il primo dei quali è quello atteso per la giornata di domani con Alex Britti. Si dà il via al White Christmas, un'iniziativa che vedrà soprattutto sul centro urbano una serie di artisti di strada per i bambini, attrazioni per i più piccoli e poi il concerto di Alex Britti. Oltre a questo di domenica del 18 dicembre, poi ci saranno i neri per caso, artisti del territorio come per Vito Grisù, Patto MC e Pierangelo Mugavero e poi il 22 con LDA più Alfa. La presentazione del programma White Christmas è stata poi occasione per il sindaco Lanzara anche di ribadire il suo appello alla sicurezza. Il sindaco di Ponte Cagnano Faiano è tra i primi cittadini che ha emesso un'apposita ordinanza per vietare l'uso dei fuochi d'artificio per tutto il periodo festivo. Ogni anno l'ordinanza quella sui fuochi d'artificio che penso che debba essere attenzionata sempre, spinta con maggiore forza sia per un fatto culturale di sensibilità anche rispetto ai nostri amici a quattro zampe ma anche per un discorso di sicurezza. Quindi noi siamo molto attenti a questo tema e immaginiamo di poterci divertire con le piste di ghiaccio per i bambini, con gli artisti di strada, con musica, concerti ma evitando questa idea di divertirsi sparando i fuochi d'artificio. Ritornando al programma natalizio, ai concerti si affiancano a una serie di altre manifestazioni come ci viene ricordato dall'assessore Adele Trigiano. Oltre alle attività culturali che abbiamo deciso di fare all'interno del Museo Nazionale Etruschi di Frontiera abbiamo iniziato il 5 con il Triomale Inconico continuiamo con le serate Gets, il 21 avremo Venturiello che narra Monte Albano e tante iniziative delle nostre associazioni culturali del territorio grande rassegna Gets che abbiamo iniziato il 14 e il 19 ci sarà il maestro Davide Cantarella il 27 Guglielmo Santimone, incontri con gli autori, abbiamo avuto Germini, abbiamo avuto Amedeo Colella quindi diciamo una grande programmazione che è iniziata inizio dicembre e finisce i primi di gennaio.